Domenica la Lega in Piazza Verona. Per difendere la libertà di pensiero, di parola, di idee, di autonomia, di federalismo, di indipendenza, processare e arrestare le idee da regimi didattoriali, da Corea del Nord, da Cuba, da Repubblica Popolare Cinese e da Unione Sovietica, non è da Repubblica Libera come l'Italia dovrebbe essere, quindi saremo lì con tanti sorrisi, con tante bandiere, con tanta rabbia, perché ci sono 24 donne e uomini strappati alle famiglie per il nulla, per il nulla di cui vengono processate le idee. Quindi non è possibile una roba del genere. Su vuoto a carceri, mette fuori i delinquenti invece questi ragazzi, queste persone sono in prigione. Questa è follia, liberano i delinquenti veri, quelli che alla violenza l'hanno praticata, quelli che hanno delle vittime alle spalle magari anche dei bambini e mettono in galera gente che discute di futuro, di indipendenza e la cui colpa è aver provato a trasformare in una ruspa, in un cingolato che neanche si muoveva. Quindi è chiaro che è un'indagine di cui lascio il commento a chi ci guarda da casa. Nel frattempo c'è il Ministro dell'Interno che così, in passante, dice Ocio, rischiano di arrivare 600 mila clandestini e cosa fanno? Cancellano il reato di immigrazione clandestina. È normale, uno dice ci sono centinaia di migliaia di clandestini che possono partire, e quindi io cosa faccio? Io con Forza Italia, con il Movimento 5 Stelle, col PD, io tolgo il reato di immigrazione clandestina, altro che Veneti, qua c'è qualcuno da o ricoverare o arrestare.